Lei ha simpatizzato per la squadra che oggi corona questo sogno? Un sogno davvero per tutta la comunità, per tutto il quartiere di Borgo Nuovo. Una squadra fatta prevalentemente da abitanti del quartiere, lasciatemi dire un'occasione di grande riscatto perché dopo 20 anni questa squadra, il Borgo Nuovo Calcio, torna nei campionati dilettantistici e raggiunge un grande risultato portando addirittura la propria squadra in promozione. Presidente, grande emozione l'ultimo match del campionato, vedere sventolare queste maglie rosa-nero fa ben sperare. Sì, questa di qua è stata veramente una vittoria di tutto il gruppo, i ragazzi assieme al mister, si sono impegnati tantissimo quest'anno proprio per riuscire ad ottenere questa promozione che mancava già da più di 20 anni a Borgo Nuovo. Però la dedica speciale, dico la faccia a mio padre che è stato il fondatore della società e teneva tantissimo alla prima squadra. Quindi la dedica particolare è per lui e poi per tutto il quartiere di Borgo Nuovo e tutti quelli che ci hanno aiutato ad affrontare questo campionato che è stato veramente combattuto fino alla fine, anche se l'abbiamo vinto con una giornata d'anticipo. Dottore, il campionato volge al termine ma abbiamo visto che c'è ancora tanta forma fisica e tante risorse da mettere in campo. Sì, parecchi sono giovani e mantengono la forma fisica, anche quelli con età più avanzata, però si mantengono bene, sono tutti lavoratori per cui ogni giorno sono in movimento e questo le dà la possibilità di essere in forma. E' chiaro che c'è stata una preparazione atletica non indifferente per la competizione. Sì, questo sì, all'inizio del campionato si fa un mese di preparazione abbastanza sostenuta, ma hanno mantenuto questa forma fisica abbastanza bene. Penso che se il campionato dovesse continuare potrebbero ancora fare delle ottime partite. Mister, davvero un traguardo fondamentale che arriva dopo tantissimi anni. Una cosa spettacolare, soprattutto per la borgata di Borgo Nuovo, che comunque abbiamo raggiunto un obiettivo che nessuno si immaginava. Siamo partiti da zero, abbiamo fatto dieci, dieci e qualcosina in più. Siamo felicissimi da questa cosa che è arrivata, è una cosa bellissima. Oggi abbiamo fatto fare il capitano Giovanni che è l'ultima partita di campionato e lascia il calcio giocato, quindi ho dato questo onore. Per me è onestamente un grande onore essere rappresentato da lui. Grande altruismo, ma cosa significa portare nella fascia di capitano di questa piccola ma grande realtà? Allora, io ricordo piccolino nel 98, sono entrato in campo con il capitano dell'allora Borgo Nuovo promozione. Per me oggi come oggi è stato un grande onore rappresentare Borgo Nuovo, rappresentare tutti questi ragazzi che abbiamo scritto una grande pagina di storia del nostro quartiere. Siamo tutti ragazzi dello stesso quartiere, quindi giochiamo con una voglia più accentuata. Complimenti. Grazie.